...e musica dello stesso Gianluca. Eccoli qui gli amici di Fisi, qualche secondo per posizionare anche per voi i microfoni. Poi avremo sicuramente qualche secondo da spendere in chiusura per ringraziare tutti quelli che stanno lavorando sul palco, alle luci, alla console. Ma anche dentro le quinta avete visto che ci sono questi ragazzi che sono studenti che ci stanno dando una grande mano. Dopo li saluteremo come si deve. Intanto siamo ancora dentro il concorso orale, stiamo correndo. Sono veramente tanti quest'anno i momenti ma ci manca pochissimo per arrivare alla fine. E quindi anche a scoprire come insomma voi, la giuria, l'organizzazione avrà deciso di mettere a posto insomma tutto quello che stiamo ascoltando e vivendo insieme. Ci siamo e quindi possiamo ascoltare su Terarzo con il foro Tasis di Isi diretto da Gianluca Pota. Solo una precisazione per la giuria. Il brano era previsto con l'accompagnamento di un telaio reale che avrebbe dovuto scandire il ritmo del canto. E verrà sostituito con... Solo per questo mi vedete con dei video. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.